Cosa vi attende tra le pagine della gazzetta del crogiolo? Quale tematiche tratterà e a chi sarà rivolta? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Finalmente è giunto il giorno, è arrivata la gazzetta del crogiolo, il primo magazine italiano dedicato unicamente ai TCG e al mondo che gli orbita attorno. Ci ho lavorato personalmente per più di un mese e l'idea era quella di proporre all'utenza una rivista di settore che parlasse del mondo dei giochi di carte collezionabili in modo specifico, trattando novità, profile, accessori, interviste a persone influenti nel settore e molto altro ancora, il tutto in un unico posto. Ma facciamo un passo indietro, più precisamente alla nascita dell'idea, o per meglio dire, l'idea è stata una conseguenza, partiamo dall'abilitazione agli abbonamenti per il canale. Non ricordo la data esatta, ma è da un bel periodo che sono disponibili per gli iscritti gli abbonamenti. Esiste un solo livello al momento, chiamato benvenuti sul crogiolo, dal valore di 1,99€ al mese, che prevede per chiunque sottoscriva i ringraziamenti a fine video nella schermata dei contenuti regolari e basta. Piuttosto magra come riconoscenza, non credete anche voi? E quindi, consapevoli di ciò, ho iniziato a pensare per tutto questo tempo a cosa avessi potuto offrire di più, ma sembrava che le idee si fossero fermate ad una sorta di dogana dove erano state tenute in arresto da qualche blocco del quale ignoravo la natura. È proprio vero che meno pensi ad una cosa e più le risposte arrivano. Infatti, oramai quasi abbandonata l'idea di partorire un'idea, poco più di un mese fa, alle due di notte circa, l'arcontessa mi ha chiesto di curare per suo conto una rivista a sfondo immobiliare, essendo lei agente, lanciandomi inoltre l'esca per fare lo stesso per gli abbonati al canale. Giusto. Perché non ci avevo pensato prima? Un magazine dalla cadenza regolare che potesse aggiornare chi supporta il canale a livello economico sul mondo dei TCG, inserendo anche qualche esclusiva tra le pagine dedicate unicamente a loro. E quindi da lì è nata l'idea per la Gazzetta, la prima rivista in Italia dedicata ai TCG. Ma cosa conterrà l'atto pratico? Nel video di oggi parleremo non solo del primo numero di per sé, ma anche di come sarà possibile reperirla e a chi sarà dedicata, così da fornire tutte le informazioni del caso ad ogni appassionato di questo meraviglioso mondo. Vuoi dare il via alla tua avventura come collezionista nello sconfinato universo dei TCG ma non sai da dove iniziare? Colleziono da Zero è la soluzione che fa per te. Con questa guida dettagliata imparerai non solo a conoscere le basi di questo mondo, ma anche le strategie avanzate per massimizzare il valore della tua raccolta. Che tu sia alle prime armi o un amatore, questo libro sarà la bussola che ti guiderà nello sconfinato universo dei GCC. In Colleziono da Zero troverai consigli utili per muovere i primi passi in questo mondo, una panoramica sulle tecniche del collezionismo, come reperire intere collezioni attraverso strategie mirate, senza spendere un patrimonio anche se non hai esperienza. Acquista ora la tua copia personale cliccando il link che ti ho lasciato in descrizione o direttamente su Amazon digitando nella barra di ricerca Colleziono da Zero. Grazie infinite per il supporto e buona lettura. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme cosa vi attenderà tra le pagine della Gazzetta del Crogiolo. Andiamo a dargli un'occhiata. In questo primo numero della rivista si tratteranno diversi temi riguardanti i DCG di maggior spicco e si parlerà di alcuni aspetti presenti in essi che potranno fornire una panoramica più ampia a tutti i curiosi o gli appassionati del settore. In più sarà sempre presente una sezione dove si prenderà in esame l'accessorio del mese, ovvero quello che personalmente ho testato nel tempo e che reputo essere il migliore della sua categoria. Ma iniziamo a sfogliare le pagine addentrandoci più a fondo nel contenuto. Le prime due vi daranno rispettivamente il benvenuto attraverso una breve lettera che ho scritto di mio pugno, il sommario dove verranno riportati gli argomenti con le pagine dove poterli trovare e la pubblicità al libro Colleziono da Zero, che potrete acquistare direttamente anche al link che vi ho lasciato in descrizione. Dopodiché si partirà immediatamente con il gioco del momento, infatti questo settembre vedrà l'arrivo di Altered, il TCG campione di incassi su Kickstarter che già sta facendo molto parlare di sé. Nell'articolo in questione infatti riporterò un piccolo resoconto di ciò che vi attenderà nelle lande desolate presenti in questo GCC, fornendo tutte le info necessarie per iniziare nel migliore dei modi la vostra avventura. Subito dopo sarà il turno di Magic e di uno dei suoi formati più amati, ovvero il Power. E come non poter iniziare al meglio se non con uno dei deck che più ho giocato e tuttora utilizzo? I tramutanti svolgeranno almeno in questa profile un singolo compito e lo faranno al meglio, picchiare male qualsiasi cosa si muova. La lista proposta infatti incentrerà la sua strategia sul potenziare ogni singola creatura presente sul terreno, andando ad impattare pesantemente sull'avversario una volta accumulato abbastanza potere. A seguire toccherà al GOAT, la storica modalità di Yu-Gi-Oh! che vede la sua decorrenza storica iniziare dal principio del gioco fino ad arrivare a poco prima dell'arrivo del set Rivoluzione Cibernetica. Qui si ripercorrerà un po' la storia del formato in questione, quali saranno le carte ed i mazzi più performanti e la motivazione dietro la quale sarà perfetto tornare a giocare le vecchie glorie se si è dei nostalgici. Sfogliando ancora si arriverà ad una delle mie parti preferite dell'intera rivista, la profile del TCG di One Piece su Nico Robin. Lasciando da parte che diverrà il leader che più di tutti giocherò dopo l'arrivo dei quattro imperatori ed il loro set, dato che la studiosa è anche il mio personaggio preferito femminile della saga ideata da Oda, il deck in questione vi permetterà già da subito di dare inizio alle vostre scorribande marittime fornendovi una lista già rodata e testata nelle terre del sollevante. Ovviamente il tutto andrà approvato e modificato a seconda delle proprie esigenze, ma invece che partire da zero, qui troverete una buona base strutturale da modificare come meglio crederete. Non poteva mancare la pubblicità ai signori di Fantasia Store, uno degli sponsor principali del canale con i quali collaboro oramai da quasi cinque anni, che avranno una pagina dedicata, come per ogni altro negozio che ha, in questo primo numero, aderito alla partecipazione. Mentre nella seguente vedrà spazio, come già accennato ad inizio video, l'accessorio del mese, che per il binomio settembre-ottobre risulterà essere il binder della gamegenic zip-up da 24 tasche. E che rivista sarebbe se non si parlasse anche di nuovi titoli in arrivo? Grazie al supporto di Claudio Tatoli vi verrà presentato Neuroscape, un gioco di carte a tema cyberpunk che vi proietterà nel mondo noto per i videogame vestendo i panni di un hacker. Con il suo primo set, Genesis, toccherete con mano il mondo al neon futuristico in questione, usufruendo di risorse che vi permetteranno di prevalere e soprattutto sopravvivere in uno scenario pieno di pericoli. Ci sarà ovviamente uno spazio anche per Pokémon, dove nell'articolo dedicato al GCC nipponico si tratterà il set Segreto Fiabbesco, che per quanto mi riguarda ha regalato ad ogni allenatore, collezionista o giocatore che sia, delle carte dalla bellezza unica, come il Persian, che osserva assorto la città dal suo appartamento di lusso, o il branco di Houndoom, che va a caccia di prede tra i boschi. Infine, le ultime quattro pagine saranno dedicate all'Orcana. Il TCG targato Disney ha tra le fila dei suoi artisti diversi italiani, ed in questo primo numero ho avuto l'onore e la fortuna di avere ospite Giuseppe Di Maio, che condividerà con l'intera community la sua esperienza, che lo ha portato a disegnare per il prodotto distribuito dalla Ravensburger. Un contenuto pieno di significato, che potrà tornare sicuramente utile a tutti gli aspiranti artisti per prendere spunto dalle parole che ci ha gentilmente dedicato. Per concludere saranno presenti le anteprime di alcuni dei temi che si tratteranno nel prossimo numero in uscita a novembre, i link utili che potrete visitare per esplorare il vostro gioco di carte collezionabili preferito reperendo i prodotti che più vi serviranno, le informazioni illegali del caso, il banner che parlerà dei diversi TCG in meno di 20 minuti, dove scansionando il codice QR verrete riportati nella playlist dedicata presente sul canale YouTube, e l'ultima di copertina, che riporterà a tutta pagina la pubblicità Loop Game, uno dei negozi locali sostenitori del progetto. Quindi dopo aver visto il contenuto della rivista, tutte e 22 le pagine, passiamo ad un paio di informazioni utili partendo dal come reperirla. Per scaricarla vi basterà cliccare sul link che vi ho lasciato in descrizione, accedere al mega di riferimento e iniziare il download. Il formato del periodico sarà PDF, quindi digitale, al momento. Già perché come ho risposto su Instagram a diversi di voi, non è escluso che con il passare del tempo e prendendo sempre più piede, non ci si possa accordare con qualche casa editrice per rendere disponibile, magari attraverso le edicole, i futuri numeri. È un obiettivo da raggiungere, ma per il momento diamo semplicemente inizio alle danze. Come dico sempre, procediamo un passo alla volta. Inoltre la Gazzetta avrà una cadenza bimestrale, infatti come già ho accennato poco fa, la prossima uscita verrà fissata per il primo di novembre, il terzo numero a gennaio 2025, poi marzo, maggio e così via. E a differenza di questo primo numero che sarà disponibile per tutti, prendetelo come se fosse un'offerta lancio, e a tutti gli effetti lo è, a partire dal secondo la Gazzetta diventerà esclusiva degli abbonati al canale. Perciò se vorrete supportare il progetto con un piccolo ma fondamentale contributo, sotto ogni video e nella home page sarà presente il tasto abbonati. Grazie infinite in anticipo. Questo 2024 sarà un anno ricco di sorprese, e il 2025 è ancora di più, e non vedo l'ora di esplorare con voi ancora più a fondo lo sconfinato universo dei trading car game attraverso le pagine della Gazzetta. E voi, avete un argomento che vi piacerebbe venisse trattato? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.